Eravate intrappolati nella banca? Sì, e non restava molto tempo. Come a noi o... Così sono venuti in città. Dove esattamente? C'era una piazza fuori. Eravamo con la bomba dentro la banca in attesa che Miller e MB3 arrivassero. Gli ho chiamati alla radio per sapere quando sarebbe arrivato il suo porto. Hanno detto tre minuti. Saremo lì in tre minuti. 3-3, vediamo di muoverci. Ci sentiranno arrivare da un chilometro di distanza. Giù il top. Ehi, Iga. Siamo incontrati con quel cammino in film. No, il segnale è disturbato. Dovremmo ricevere qualcosa una volta superate quelle strutture altre. Merda, le strade sono bloccate. C'è una strada secondaria sulla destra. Però è stretta. Ok, diamoci dentro. Cazzo amico, non va bene. Miller, vieni qui. Dobbiamo chiudere i portelli. Senza panteria. Saremo cecchi. Prevecchi farti portare da un cecchino? Di bene, in meglio. R.P.G. identificato. Detto, ingaggio, ingaggio! Colpiti, colpiti! Pilota, portaci via da qui, cazzo! 3-3 colpito! 3-3 colpito! Ancora operativi! Oh, merda! Vuelo era un carro? Sì, l'ho visto anch'io. La banca è da quella parte. Sparare è regolare! Sì, ammazziamo quei bastardi, senza tregua! È avvio il 3-4 che ispittura 3. Si vediamo! E tutti gli altri dove sono? Maggine resti 1. Sono noi. Roger. Occhio, ci sono dei carri in arrivo fuori dalla piazza. Ricevuto, ne abbiamo vinti. Siamo pronti alla margine da qui. 3-4, mi ispittura 3. Non troviamo la sala principale, ma vediamo altre unità PLR con missili pesanti in arrivo. Vanto! Roger. Sentiamo questi figli di troia! Avanti, forza! Andiamo! Pissili di arrivo 3-4! Cosa cazzo è stato? Riflessinare l'energia! Qualcuno è stato colpito! Stiamo bene! Non era un RBC! Miller! Sali di troia! Vedi che cazzo succede? Embry 3-4, state bene? L'energia è tornata, ma siamo senza motore e in schianto idraulico. Stato delle estrazioni! Resistenti, stanno arrivando! Spero che ci sia un motivo valido per tutto questo! Puoi passare le comunicazioni su TAC-3? Roger, cambia ora! Che cazzo succede? Non lo so! Ripassiamo! Vado! Ci sei! Roger! Ascolta! La situazione seria potrebbe esserci una testata nucleare! Siamo nella merda fino al collo! Oh cazzo! Una testata nucleare! Roger! Zero! Ma la imputo che questi strozzi non lo prendano! Ho sentito! Faremo il possibile! Torniamo al canale operativo! Miss V1-3, ripeto, qui 6-4-0, siamo a 30 secondi, preparatevi all'evacuazione, ricevete! Forte chiaro! Segniamo la Z-A con il fumo giallo, passate! Contatto visivo con la vostra posizione! Miss V1-3, abitre una pressione! Troppate il G4-6 in arrivo da est e ovest! Recivuto! 3-4, forte chiaro! Miller, tu prego i Miss V1-3 con la Z-150, finché non rinforziamo il sistema idrobbico! Ragazzo! Siamo in giro! Siamo in giro! Senti se colpiamo il rotto! Se il 4-0 è nel 3-4, il nostro veicolo potrebbe non essere operativo! Come possiamo evacuare con Miss V1-3? Siamo in giro! Siamo in giro! Siamo in giro! Siamo in giro! Appena spazio per loro! Ricevuto! Roger! NB-3-4, Queen State 4-0! Confermiamo il panchetto a bordo! I rinforzi arriveranno presto! Passo! Canone inutilizzabile! Vengo su! È M166! È M166! Qui è M134! Serve il supporto immediato! Siamo sotto una tempesta di fuoco! Il carro è bloccato! Non possiamo combattere! Roger, chiederemo supporto aereo! Stiamo facendo il possibile passo! Ci servono subito! Tieni duro! Stiamo arrivando! Salve! Signor Mill, vero? Gli americani e i loro souvenir. E di suo figlio? C'è scritto il nome. Johnny Mill. Speriamo che non ne senta la mancanza. I bambini si attaccano a queste piccole cose. Piangono per giorni quando ne perdono una. Sa perché? Perché questi oggettini gli ricordano che sono amati. Ma perdere fa parte della crescita, no? Parte del crescere è accettare l'inevitabilità della morte. Accettare l'inevitabilità, signor Miller, della morte. Mio padre lo diceva sempre. Quindi, lei sarà un eroe per suo figlio. Spero possa esserle di conforto. Omadei! E John! Vergogna! Venite nel nostro paese per ucciderci! E i terroristi siamo noi! Noi che proteggiamo la nostra gente e la nostra nazione! Questo è il prezzo da pagare.